oggi è l'allergy day 2015 la parola ai nostri campioni per alcuni messaggi importanti relativi alle allergie l'allergia è un avversario da non sottovalutare impegnati in questa sfida e vince anche questa partita la buona alimentazione è alleata degli sportivi se uno sportivo allergico consulta il tuo allergolo studierà una dieta per te